Bentornati nel Fisbio Show, puntato settimanale domenicale dedicato al numero 3445 di Topolino Numero molto particolare con una copertina che si ispira al ciclo paperingio di Luciano Bottaro realizzato da Andrea Freccello con il colore di Andrea Cagol questo perché al suo interno c'è una nuova storia che dovrebbe collegarsi e riprendere un po' quello che abbiamo letto in passato proprio del ciclo paperingio di Luciano Bottaro e Carlo Kendi opera di Carlo Panaro e di Marco Palazzi qui Andrea Freccello ha voluto omaggiare il maestro Luciano Bottaro con un suo personaggio che tanti di voi conoscono e a cui sono molto molto affezionati lo vediamo in un piccolo particolare, questo funghetto con un papillon e nient'altro è che un omaggio a Pompon, il fungo antropomorfo creato, nato proprio dalla matita di Luciano Bottaro questo è un bellissimo gesto da parte di Andrea Freccero, ricordiamo supervisore, artist dei Topolino e tutta la banda dei disegnatori del Topo che con questo piccolo omaggio secondo me rende giustizia dal giusto risalto ad un grandissimo maestro Disney un po' sottovalutato secondo me che merita molto più risalto merita molta più valorizzazione anche in pubblicazioni che mancano si sente la mancanza di qualcosa di spessore con Luciano Bottaro protagonista chissà se un domani verrà proposto qualcosa proprio dedicato a questo grandissimo maestro ormai scomparso da diverso tempo ma questo numero è particolare perché ha inallegato il primo gadget natalizio dell'anno eccolo qui l'appendaglio realizzato da Libero Ermetti progettato, ha fatto tutto lui, non ha tridimensionalizzato queste cose qua le hanno fatte altri però l'idea è tutta sua qui qua qua con un cappio per impiccarsi quando alla mattina di Natale non troverete il vostro regalo preferito e desiderato e quindi deciderete di fare altro e usare questo cappio per scopi ben diversi da quello di festeggiare il Natale ma off topic a parte sembrano fatti bene, di buona fattura, fattucchiera mi sbiaci stava impossessando di me questo è il primo, come dicevo il prossimo lo troverete sul numero dell'immacolata con un pippo che si dondola su una diziosa altalena nel vuoto e poi la pinzetta con Zio Poverone che suona a furibondo una campanella lo troverete in allegato a Zio Poverone che io penso zomperò quindi fatemi sapere se anche la pinzetta è di buona fattura ma torniamo noi editoriale del direttore Bertani che cita le storie presenti in questo numero e cita anche gli autori presenti in questo numero ovviamente discorso a parte per Carlo Panaro e Marco Palazzi già citati nel precedente editoriale e qui solamente accennati il direttore si focalizza sulla storia dedicata da Amelia le origini di una fattucchiera storia realizzata da Maya Astrup con i disegni del maestro Giorgio Cavazzano ma qui si andrà a scavare sulle origini proprio di Amelia come è diventata la più potente strega magliatrice che tutti noi conosciamo e come Carbars l'ha presentata a noi lettori e poi anche qui citazione molto veloce le ripilanti storie di Topolino le origini e beh la storia del bomboniere di Pico De Papris realizzata da Francesco Vacca e da Mattia Surroz ma attenzione finalmente sono noti i nomi sono pubblici della storia il bianco e il nero il ritorno di Macchia Nera ovviamente Marco Lucci e testi casti e disegni di cui troverete poi una breve intervista a fine albo che i due autori hanno rilasciato dichiarazioni molto importanti sulla sorte del temibile Macchia Nera è che si spera torni nuovamente molto pericoloso come lo si è visto nella storia precedente tanto chiacchierata e Dulcis in fundo notiziona che nessuno di noi si aspettava la prossima settimana ci sarà una nuova storia di Newton Pitagorico sono solo pensieri scritta sempre dal buon Marco Lucci ma disegnata da una new entry Simona Capovilla che fa il suo esordio ai disegni sul topolino numero 3446 e quindi vedremo una nuova disegnatrice esordire dopo tante altre sue colleghe e saremo qui pronti ad analizzare e dare un nostro giudizio personale ovviamente del suo operato e vederla crescere pian piano come sta accadendo anche per le altre sue colleghe che da poco hanno fatto il loro esordio sulle pagine del settimanale quindi in bocca al lupo a Simona e poi tornerà anche Pippo Spot con una novità che non sappiamo con l'unica certezza forse che c'è Alessio Coppola ai testi o ai disegni chi lo sa? bocca! ed eccoci a Paperino e il sigillo di Paperomagno storia suddivisa in primo e secondo tempo prima parla della seconda parte entrambi presenti su questo numero come dicevamo Carlo Panaro ai testi Marco Palazzi ai disegni passiamo subito alla parte grafica perché poi sulla parte scritta sulla storia vera e propria avrò qualcosa in più da dire Marco Palazzi è stato presentato come un disegnatore dal tratto classico e così lo avevo già anch'io etichettato inquadrato al tempo perché le storie disegnate da Marco Palazzi hanno quel tratto classico Disney che mantengono il character design originale dei personaggi Disney e se devo essere sincero non mi è mai dispiaciuto e nemmeno in questa circostanza a parte qualche ghigno un po' di paresi nei bassotti però tutto sommato la parte grafica ha mantenuto diciamo quello che avevamo visto anche nel ciclo Paperingio nonostante siano passati così tanti anni però forse serviva un qualcosa in più anche a livello grafico per questa nuova storia che rilancia praticamente il ciclo in versione moderna ma questo è un mio pensiero puramente personale un parere personalissimo però ci avrei visto qualcosa di nuovo avrei osato un po' di più perché all'epoca Luciano Bottaro osava nei suoi disegni anche se il tratto rimaneva classico si vedeva che c'era un qualcosa in più nel suo disegno nelle sue storie e questo è quello che è mancato anche nella parte sceneggiata nel soggetto nella scelgiatura di Carlo Panaro e a me dispiace molto perché so quanto o meglio non che so immagino quanto l'autore si sia impegnato nel voler mantenere la storicità di questo ciclo di mantenere le origini di questa storia continuando ad utilizzare i personaggi principali Paperino il Paladino il suo scudiero ciccio Archimede e lo stesso Paperomagno però anche qui purtroppo manca il guizzo manca la marcia ingranata per dare una sterzata alla storia perché ha mantenuto lo stesso livello dall'inizio alla fine non ci sono mai stati picchi spunti in più che intrigavano il lettore a proseguire o meglio ad affezionarsi neanche affezionarsi ad invogliarlo a scoprire qualcosa in più delle storie che l'hanno preceduta in questo caso si è persa una grossa occasione io parlo da lettore che non è che ha vissuto ma ho recuperato negli anni il ciclo Paperinjel su varie stampe volumi ad hoc eccetera e se devo paragonare le singole storie a questa storia beh ci sono oceani di differenza di distanza di livello proprio qualitativo quello che poi ho pensato è che forse determinate storie è giusto che non vengano più riprese in mano lasciarle comunque come pilastri del passato della storia del fumetto Disney senza andare a ripescarle e cercare di dargli una continuità adesso perdonatemi il paragone l'abbiamo visto anche con PK soprattutto nell'ultimo ciclo si è cercato di far qualcosa di nuovo questo è apprezzabile però se si va a rovinare se si va ad alterare la storia in sé ovviamente il lettore navigato che ha esperienza che ha tot anni alle spalle di letture diciamo anche i classici vecchi ovviamente stoccerà al naso perché non ci troverà delle cose in comune o meglio qualcosa in comune c'è però tante cose mancavano tante cose nuove sono state inserite anche il livello di gag visto in questa storia lascia un po' il tempo che trova e proprio per questo si è persa una grossa occasione ok che in questo momento in parallelo sta uscendo libreria fumetteria edicola tutti i posti online il volume con il ciclo paperinio originale però forse in questo caso si poteva fare molto ma molto di più oppure proprio lasciare tutto così come è stato e rilanciare il volume con altre iniziative che so utilizzare proprio il nome di Luciano Bottaro per rappresentare anche una sua omnia o delle sue storie particolari racchiuse in un volume oltre a quelle del ciclo paperinio e quello che manca secondo me ad oggi in Italia far conoscere determinati autori determinati disegnatori ma anche con iniziative eventi perché a volte non basta una storia nuova celebrativa per far tornare l'interesse perché la storia deve essere accattivante invogliare incuriosire e non deludere soprattutto e questo è molto importante è quello che vi parla purtroppo un lettore deluso in questo caso poi mi auguro che io sia una goccia in mezzo all'oceano sia l'unico caso isolato tra tutti i lettori che non ha apprezzato questa nuova storia del ciclo paperingio e che tutti voi l'abbiate apprezzata e l'ho data ovunque e che si possa poi proseguire con altre storie non lo so nuovi volumi eccetera eccetera come mai avviene di sovente con le nuove miniserie saghe e quindi per me questo rilancio mi sa un po' di buco nell'acqua ecco sono schietto e sincero come sempre le orribilanti bomboniere di pico de paperis francesco vacca i testi mattia surroth disegni una godevole riempitiva come quelle che servono come il pane ogni settimana e il buon pico riesce in qualche modo a stupirci o meglio francesco vacca utilizzando il pico in questo modo riesce a farci divertire per non parlare poi di mattia surroth di cui sono fan svegatato anche se il suo tratto sembra molto frecceriano ma fate attenzione così proprio non è mattia anche l'inizio aveva questo tratto col tempo ci ha lavorato ha avuto un momento di pausa è ritornato secondo me alla grande sulle pagine settimanale giustamente l'ho dato anche da direttore e avrà modo secondo me col tempo di personalizzare ancora di più il suo tratto e regalarci cose molto ma molto interessanti ne sono strassicuro perché ha veramente talento questo disegnatore credetemi e io qualcosa già intravedo in queste storie e so per certo che in futuro arriverà il momento in cui tanti di voi si ricrederanno proprio sul tratto di mattia surroth non sto a raccontare cosa accade in questa storia molto breve ma è divertente l'importante è questo e questo è lo scopo delle storie riempitive riempitive giusto per dire ma sono quelle storie un po' brevi che servono da fare da raccordo tra una lunga iniziale e una lunga finale all'interno del settimanale ed eccoci a topolino le origini con gli occhi del nemico Danilo Delinotti testi Ottavio Panaro ai disegni non so cosa dire di questa storia è una prima parte questo è chiaro proseguirà però il direttore ha detto che siamo quasi alla fine di questo ciclo di questa miniserie per fortuna direi perché anche qui abbiamo raggiunto picchi incredibili di citazioni ad minchiam si può dire perché dove era a tutti i costi citare la collana Kirikawa di Romano Scarpa poi in quel modo in questa storia in questo ciclo abbiamo visto di tutti i colori mi ero già incalzato come una iena tempo addietro proprio sotto un po' in origini non mi va giù non mi va genio è tutto sbagliato secondo me da lettore che quelle storie le ha lette e non credo che i nuovi lettori con questo ciclo di storie vengano incuriositi da quello che vedono all'interno di questa miniserie perché si potrebbe fare tutt'altro dedicato a Young Topino ma come viene fatto in Topolino alle origini è sbagliato perché raccontarlo in questo modo tra virgolette semplice non è il modo giusto di raccontare le origini di Mickey Mouse di Topolino bisogna andare a scavare nel passato del personaggio ma nel mondo corretto non reinventandosi cercando di portare le origini di Topolino in chiave moderna nel modo in cui abbiamo visto fino ad oggi e io spero che finisca presto questa miniserie che finisca anche nel dimenticatoio del sottoscritto e di tanti altri che in qualche modo sono rimasti abbastanza triggerati di quello che hanno visto fino ad oggi e mi dispiace perché so che il direttore Bertani ci ha creduto tanto in questo progetto è stato lui in prima persona proporlo però il risultato finale è gravemente insufficiente non è per nulla soddisfacente ci sono tantissime cose completamente sbagliate e credo proprio si prenderà la palma di Storia Flop dell'anno nuovamente ormai fa incetta di premi di Fisbiaccio Genko giustamente in questo caso ma per fortuna che l'ultima storia di questo numero tira su il morale sottoscritto ma salva la baracca da un naufragio senza precedenti Amelia In le origini di una fattucchiera Maya Astrup ai testi Giorgio Cavazzano ai disegni storia danese del 2019 fate attenzione quindi non è nata qui in Italia è stata fatta qui in Italia Giorgio Cavazzano l'ha disegnata in modo eccesso secondo me ci perdiamo nei suoi dettagli nella sua precisione del tratto perché ci sono tante vignette tante tavole che valgono veramente la pena di essere viste e lette e apprezzate dal cartaceo e non dal tablet perché io ho il cartaceo anche per questo motivo la storia è una bellissima storia quindi fate attenzione anche se non è realizzata da autori italiani abbiamo a che fare con una storia molto molto bella e interessante che scava nelle origini del personaggio come è giusto che vada fatto quindi eh tiratina le orecchie attopino le origini non lo snatura affatto anche ci racconta qualcosa di inedito qualcosa che la maggior parte di noi non conosceva senza snaturarlo e l'ho trovata interessantissima come storia e mi è quasi dispiaciuto che sia finita in così poche pagine le avrei volute altre tante ancora 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 la crescita del personaggio di Amelia da bambina pian piano con i genitori lo zio la mamma e poi il suo cambiamento ma una dolce paperetta diventa la strega ammagliante la fattucchiera che ammaglia con lei che ambisce a conquistare la numero uno di paperone e il tutto poi condito da una tavola finale che omaggia nel modo migliore possibile il personaggio di Amelia e il suo creatore Carol Barks non vi dico altro godetevi leggetevi questa storia prendete il numero solo per questa storia in primis ma anche poi se volete il cappio da appendere all'albero con qui con qua del libero ermettone fatelo pure perché vale la pena anche per quello ma questa storia veramente è rimasta molto nel cuore e la ritengo forse una delle storie più belle viste su Topolino in questo 2021 quindi ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e tra un po' tireremo le somme ma questa storia così a sorpresa entra prepotentemente in lizza per entrare nella classifica dei Top 5 del The Fisbio Show attenzione e poi attenzione attenzione notiziona in questo mese si festeggia si cede al Free Book Comic Day italiano e troverete in fumetteria una copia con le prime 19 pagine esatto esatto controllato adesso delle cronache degli antichi regni la storia che farà il suo esordio sulle pagine settimanali a fine anno e abbiamo anche i nomi dell'autore del disegnatore Alessandro Sisti ai testi Francesco Di Polito ai disegni molta curiosità devo un attimo capire bene dove andrà a parlare Sisti con questo fantasy ma contentissimo che venga confermato in una storia fantasy Francesco Di Polito perché in Dactopia ha realizzato un capolavoro e credo che anche qui valga lo stesso discorso e quindi appuntamento tra una settimana con ritorno di macchia nera e tante altre storie che reputo molto interessanti e poi fate attenzione che tra una settimana quindi prendete nota tornerà il The Fisbio Show Live quindi ad oggi una settimana vi dico anche l'orario che dovrebbe essere quasi certo ore 17.30 sarò live sul canale con un ospite speciale di cui ancora non vi dirò il nome rimarrà segreto ancora per un po' ma state certi che sui miei profili social pubblicherò poi la locandina che ci farà compagnia domenica 12 dicembre alle ore 17.30 prendete nota appuntatevelo mi raccomando non dovete perdere assolutamente questa live perché sarà molto ma molto interessante e dovrete partecipare veramente in massa io vi ho avvisato quindi disditi tutti gli impegni frega nulla delle partite del campionato non pevate le palle quando facevo le live alle ore serali c'era il posticipo c'era questo c'era quell'altro in settimana c'era Champions e basta quindi 17.30 non dovrebbe esserci nessuno a parte la sede C la sede D ma quello potete vedermelo in replica ma non le due fisbio show live ma visto live perché dovrete interagire con i sottoscritti e soprattutto con il mio ospite bene basta così vi ho già tediato abbastanza come sempre se il video vi è piaciuto un bel like commentate fatemi sapere le vostre impressioni i vostri triggering perché sicuramente non saranno mancati ma anche sapere se avete apprezzato il ritorno del ciclo paperingio e soprattutto la storia di Amelia e prima di lasciarvi mi raccomando continuate a riscrivervi stiamo crescendo piano 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 ma dovrete essere veramente in tanti fin anno si avvicina difficilmente raggiungeremo quella cifra a tre zeri ma posso anche soprassedere colpa mia che manco da diverso tempo diversi appuntamenti dalle recensioni dei grandi classi Disney del progetto pk ho già registrato il video del numero 1 ombre su venere ma devo trovare il tempo per editarlo perché ci sono tanti contenuti sapete bene quanto impegno ci dedico per questo progetto ma arriverà tornerà anche quello e poi a fine anno una piccola sorpresina oltre alla live del 12 che vi farà molto piacere ne sono sicuro io adesso vi lascio buona domenica a tutti ci vediamo in settimana per un nuovo video domenica prossima domenica 12 dicembre in live con The Fisbio Show Live ciao